Ciao a tutti e bentornati su IndieGameplay Ita. Oggi siamo su Deadly Flare, un gioco che ho ricevuto, così diciamo a tardimento perché non ne conoscevo manco l'esistenza, sviluppato dai Greengrass Games, un gioco che deve uscire prossimamente, mi hanno detto provalo, io ci faccio un video. Qual è la trama? Beh, è la classica apocalisse zombie ma un pochino diversa perché una tempesta solare ha distrutto tutto e tutti, trasformando gli esseri viventi in gold zombie insomma e cose del genere. E i miei uniti menu sono molto rudimentali ma andiamo a vederli perché ultimamente anche i giochi con un menu rudimentare si sono rivelati essere davvero interessanti. Iniziamo una nuova avventura e la grafica è qualcosa che mi ricorda un low poly, quindi un po' come possiamo dire Wildlands, insomma è un gioco dove combatteremo zombie, accumuleremo armi con meccaniche che ricordano magari un pochino Seven Days to Die, si guidano anche le macchine, si riforniscono insomma. Le permesse sono interessanti e non avrei mai riscattato né portato questo gioco se non mi avesse anche solo un pochino ispirato. Quindi lo proviamo insieme, era un giorno normale nelle nostre vite. Ah, devo premere Inter. Noi eravamo così felici ma è stato tutto un attimo. Non si è mai visto un evento solare che ha cambiato tutto. Il mondo come lo conoscevamo non esiste più. Per prima cosa, il primo problema è stata l'elettricità. Poi è andato tutto male, le bruciature delle radiazioni ha cambiato il nostro DNA per sempre. Le persone hanno cominciato a cadere morte tornando in vita come mostri. Erano inarrestabili. Mi fa veramente male, la mia famiglia è svanita. Sono stati quattro anni dove ora non posso nascondermi e le mie risorse sono finite. Graficamente è carino e ricorda sempre, ecco, io mi riferisco sempre su questo stile grafico a Tai DC, il cui remake non voglio ricordare, però voglio ricordarmi il gioco che volevo giocare in inizio anni 2000. Comunque, ora, Gathering Resources. Prendiamo il coltello, dobbiamo raccogliere quattro risorse ancora, vediamo un attimino se c'è. Beh, l'Apoteto che fa le batterie. Un medikit sicuro. Il fatto che non si vedono le gambe ma si vedono le braccia, che è già comunque buona cosa. Qua c'è una pistola e qua ci sono delle munizioni. Usa le scale per lasciare il bunker. Siamo dentro il bunker e interagisco, quindi non salgo fisicamente le scale, ma c'è questo caricamento e mi ritrovo nel mondo esterno. Equipaggia la pistola. Allora, muove la pistola nella hotbar ed equipaggia la. Quindi, aprendo, lo trascino, prendo anche il coltello, intanto sarà anche quella parte del tutorial. Anzi, magari mi metto anche questo che si sa mai. Ok. Si mira. Check the car engine. Quindi devo controllare il motore della macchina. Qua abbiamo il crafting manuale e qua le armature. E qua invece la salute, il sonno, la sete, le proteine, i carboidrati, i grassi, le vitamine. Non c'è una vera e propria corsa impugnando l'arma, ma mollando e mi muovo più rapidamente. Premo E per interagire e all'interno vediamo che c'è il motore che ha metà vita. Perde durabilità over time. Ok. Sistema l'auto. Trova e assegna tutti i componenti mancanti della macchina. Controlla quattro case per il lutto. Ok, vediamo intanto se qua c'è qualcosa, ma non credo. Quattro case. Iniziamo da questa. Tipico vicolo americano. Può vedere se si può guardare sulle macchine, no? Sì, graficamente non è lo stato dell'arte, quasi, senza dire che è volutamente così stilizzato, ma mai sa mercare più bello, insomma, da vedere. Però... Ok. Io prendo, tasto destro, e trascino tutto all'interno. Bello che si apre come Seven Days to Die, ma molto più velocemente. Allora, cerchiamo sti componenti per la macchina. Favorifero. Non c'è niente. Tessuto. E tessuto. Il caminetto. La televisione sopra il caminetto. Una presa elettrica. Ok. Questa è una casa. Container. Prendo. Ok. Fortunatamente sono staccabili. Open container. Niente. Aspetta che sta altro di là. Munizioni. Spero di non trovare sorprese in giro. Vabbè, questa casa non ha assolutamente nulla di interessante per quanto riguarda l'auto, ma sul retro magari troviamo qualcosa. Ah, quello lo possiamo tagliare col coltello. Ma cosa sto recuperando? Ah, le fibre. I rametti. Bella sta cosa. Carino. Qua non c'è nulla. Vabbè, fatemelo togliere. Pick up. Una gomma. Una corda. Dei chiodi. Vediamo un po' l'inventario. Non ho ancora stanza libero, perché poi c'è modo anche di sbloccare altri slot, probabilmente equipaggiando uno zaino. Beh, una casa l'abbiamo esaminata. Questa era la nostra casa. Avevamo anche un capanno degli attrezzi dietro. Però direi di andare a vedere un'altra casa. Abbiamo gasoline, quindi andiamo a vedere la stazione. Non c'è una mappa al momento, quindi è un po' ridicolo questa cosa della corsa che fa. Che sembra un cartone animato. Dove tirare i pugni all'aria, ma... Devo dire che ha una buona personalità. Mi ricordo un altro gioco che era un gioco online. Questi commettevano dei zombie in cooperativa, ma non mi ricordo il nome. Sembrava un gioco carino oppure quello, però parlo di qualche anno fa. Che era un famoso free to play. Porta è finta. Ok, la gasoline non c'è niente. Abbiamo preso solo una... una... una latta di benzina. Basta, credo che qua... non ci sia altro, anche se... Ah, ok, non si apriva perché era chiuso lì. Va bene, guardiamo se il pick up ha qualcosa perché potremmo anche pensare di... Oh... No, non... non si può aprire niente di... di tutto questo. Niente, continuiamo. C'è la macchina della pulizia lì. Lidante. Facciamo il giro, speriamo di non trovarci sorprese davanti. Poi calcolate che il gioco non è ancora uscito, quindi... cioè non è ancora uscito, ma anche in un eventuale early access, quindi... non... non si può pretendere che sia completo, calcolando che su Steam dice ancora in arrivo. Metal Scrap e Rope. Un'altra corda. Qua non c'è niente. No. Le case sono uguali in questo caso. No. E nel bagno non c'è niente. Niente, questa è una casa fotocopia dell'altra. Non va. Ogni veicolo ha bisogno dei componenti per essere in grado di essere guidato. Puoi trascinare parte del veicolo in uno slot. Ok. Allora, abbiamo esaminato due case. Dobbiamo esaminarne quattro. Ci sono diversi alberi che si possono abbattere, ma... noi continuiamo, andiamo nella casa a fianco, così... le vediamo tutte quattro, le case, perché alla fine qua vedo solo quattro case, quindi... una probabilmente la nostra da cui siamo usciti. e quindi vediamo questa e poi torniamo giù in casa. Questa sembra bella grande, comunque. Quindi questa è un po' diversa. Per quanto abbia i suoi mobili scomodo, l'uso di ESC si potrà cambiare, immagino, ma... Porta, niente. Frigo, niente. Io dubito di trovare parti per la macchina dentro gli amadi della cucina, ma... Uh. Ok, abbiamo quasi un inventario pieno, però. Beh, intanto qua abbiamo preso quasi tutto. Fatemi vedere di qua. Bagno e una stanza. Ammo. Ok. E altri tessuti. Ok. Il bagno, niente. C'era qualcosa lì dietro che si vedeva... Ah, no, è il comodino. Vabbè, andiamo di sopra. E vediamo. Carta da parati dovrebbero bandirla dal mercato. Comodino. Pancontener. Piglia, piglia. Ah, non c'è. Cos'è? Ammo. Eh... Sì, ma non... Eh, no. Le ammo possono aspettare. Anche perché non credo, non ci sono ringhiere, non c'è niente. Vabbè, terza casa esplorata. Quindi andiamo alla quarta, che immagino sia quella la nostra. Perché là dietro c'è una casa isolata là in mezzo, ma non mi fido molto ad andarci perché chissà che cosa ci troviamo. Vediamo qua dentro. Però erano partiti da qua, quindi non credo me la... Me la consideri valida. Però, diamoci un'occhiata. Di nuovo. Piano di sopra non eravamo andati qua. Oh, cazzo. Ok. Ok. Ok, ci ha dato la missione completa. Quindi... Dice di trovare tutte le componenti della... dell'auto. Meglio le componenti dell'auto, non ho idea di dove siano. Attenzione perché qua si può... Ah! C'è un bunker addirittura. Ma il bunker da dove siamo arrivati, giustamente. Andiamo, andiamo. Comodino. Armadio. Munizioni sempre. Fammi ricaricare perché... Si sa mai. Apre i container. Ho preso un sacco di teli. Ma non... No, non penso ci sia altro da poter guardare. Io prendo sempre i teli. È tutto molto uguale. Diamo un'occhiata adesso. Ah! Aspettate un secondo che non ho mai guardato se erano interagibili questi mobili. E infatti nelle altre case non ho mai guardato. Comunque vabbè. Non posso prendere niente. Quindi vediamo un attimo. O io scende pochissimo la fame. Quindi non abbiamo neanche bisogno di... Allora. Diamo un'occhiata. Premi per interagire. Eh... Tire. Ok. Abbiamo la gomma. Una. Battery. Gas can. Gas can ce l'abbiamo. Ci mancano altre gomme e una batteria. La batteria l'avevamo trovata là. Ma la gomma io dove cacchio la trovo? Adesso mi posso abbassare ma... Mannaggia. Guardo il meglio lì. Vediamo se riesco a recuperarla in qualche modo perché... Non credo sia recuperabile dalle auto qua ferme. A parte che qua c'è una macchina della polizia. Allora. No. Non sono andato qua dietro a vedere ma... Non credo ci sia nulla. No. Infatti. Qua niente. Qua c'era il bagno ma il bagno non c'è niente. Guardiamo il letro. Se no... Adesso mi metto a cercare un po' i componenti e poi riattacchiamo quando li trovo. No. Vabbè. Cazzata. Vediamo un po'. Beh. Vado a cercarli un po'. Non... Il letro completatore vi fa un livello di disaria. Ok. Niente. Mi metto a cercare. Mi metto a cercare. Mi sentiamo appena ho finito. Allora. Inizio già a cogliere dei dettagli che prima non avevo visto. Tipo. Una batteria. E una gomma. E probabilmente. Probabilmente. Un'altra gomma là davanti. Quindi. Non era poi così complicato. Aspettate un secondo che qua. Mmm. No. Vabbè. Qual... Quella. Eccola lì. Niente. Allora. Adesso mi metto. Dato che dall'aria non posso uscire. Sono sicuro che. È tutto qua. Qua vicino. Allora. Fatemi fare una cosa. Intanto. Fatemi buttare. Così vediamo quando butto qualcosa a terra. Cosa succede. Ehm. Vediamo un po'. Buttiamo. Anzi. Non buttiamo niente. Metto qui. Prendo la gomma. Qua c'è il motore. La batteria. È brutta. La batteria incollata lì così. Comunque. Niente. Mi rimetto a... Uh. Che salto. Chissà se riesco a uscire adesso da qui. Merda. Ed eccoci. Dovremmo aver finito. Eh. Avevo. Vabbè. Intanto. Mettiamo l'acqua qua. Così liberiamo lo spazio. Eh. Ero anche morto. E morendo. Non avevo fatto nessun save. Perché non c'era modo di salvare. Al momento qua non c'è modo. Quindi. Eh. Ho dovuto ricominciare da capo. Ho fatto praticamente le stesse cose. Cambiano gli oggetti. Quelli sono procedurali. Quindi. Iniziamo a mettere tutto. Di nuovo. Macchina. La batteria era allo stesso posto. Quindi ora abbiamo l'auto completa. Vedete c'è uno stato di usura. Check the log house condition. Ok. E qua si va e si guida. Check the log house. Ok. C'è dove... Dove c... La missione dove... Di là. Ok. Andiamoci. A vedere. Doia. Bo... Boiamong. Si vede pochissimo fuori. Quindi si fa veramente fatica. Il gioco in sé. Non è male. Perché ovviamente. Non va preso come una simulazione. Di survival insomma. Una simulazione di vita. Quello che posso dirvi. È che sono in bilico. Tra il giudicare questo gioco. Come. Una interessante prospettiva. Per il futuro. Passando per. Una. Cosa da evitare. Nel senso che. Per me. Quello visto finora. Non è assolutamente. Un brutto. Gioco. Un brutto risultato. Ehm. Dipende. Se al rilascio il gioco. Verrà aggiornato. Costantemente. O anche da adesso. Al rilascio su Steam. Il gioco verrà aggiornato. È assolutamente una promessa. Poi dall'altro lato. Può nascondersi anche. Eh. Un. Un tentativo di. Di scambio. Insomma. Non lo so. O qua. Siamo usciti. Abbiamo lasciato la macchina. Vedete che qua si può anche scavare. E si può. Si possono anche tagliare gli alberi. Comunque. Pick up 4 logs. Ok. Che sono questi. Perché adesso. Andiamo a costruire. Perché si costruirà. E proveremo. Raccogli tre pacchi di. Chiodi. E io. I chiodi dove li trovo. Cioè. Non. Non ho idea di dove siano i chiodi. Cioè. Posso raccogliere pietre. Perché questa. È l'inizio. Della costruzione. Di. Di una base. Perché andando nel menu. Vedete che possiamo. Craftare. Tools. Possiamo. Craftare. Medicine. Strutture. E. Anche cose per l'housing. Quindi vedete che ci servono. Niles. Quindi chiodi. Quindi. Dobbiamo. Andare. A cercare i chiodi. Non. Non ne abbiamo. Al momento. E credo che. Nella foresta. Solitamente. Non crescano i chiodi. Quindi. E. Ogni veicolo. Ha bisogno. Di un. Tipo. Di componente. Per essere. In grado. Di essere guidata. Ok. Questo. L'ho meglio fatto. E. Dovevo raccoglierli. Prima. Però. Ho corso. Una seconda. Quindi. Bisogna. Tornare indietro. Un po'. Un po'. Macchinoso. A dire. Poco. Il sistema. Di controllo. Anche perché. Non si vede. Niente. Siamo. Dei nani. Alla guida. Torniamo. Di là. Vediamo. Non so. Contro. Cosa. Ho portato. Probabilmente. Una piantina. È. Un commettente. Ma è sicuramente acerbo. Molto acerbo. Quindi. Dovremmo. Ma. Porca. Caccia. La miseria. Ma. Dove. Cacchio. Sto andando. Non si può andare su. Devi. Bisogna. Di qua. No. Poi. Anche. Il sistema. Di guida. A parte che non si vede niente fuori. È abbastanza scorrevole. Divertente. Insomma. Andiamo a vedere. Qua. Adesso che siamo potuti andare. Andare via. Vediamo se mi fa questa salitina. Sì. E stop. E andiamo a vedere se ci sono. Dei chiodi. Oltre che dei zombie. Che sento. Allora. Vedete che. Se noi spariamo alla testa. Lui spara solo se siamo in modalità di mira. Se miriamo bene alla testa. La testa salta via. La hitbox non è propriamente ottimale. Perché. Ho visto che tante volte sparando vicino. Lo colpivo lo stesso. Però. Non lo definisco. Uno di quei giochi. Veramente scadenti. Perché non. Non lo è. La trama. Non è originale. È vero. Però. Secondo me. Può essere. Questa la definisco. Una sorta di news. Non è un consiglio. Per gli acquisti. Come ogni gioco. Che vi porto. Ma un modo per dirvi. Guardate. Questo gioco qui. Segnatevelo. Mettetelo. Magari. Nella lista. Dei preferiti. E ne ripartiamo. Da qualche mese. Probabilmente. 8 bullets. Duct tape. Niente. Chiodi non ne troviamo. Quindi. Dovremmo. Dovremmo cercare meglio. Ma. Diciamo che. Al momento. Io mi fermo qui. Perché. Comunque. Il video. Non sarà lunghissimo. Però. Voglio darvi giusto. Un'infarinatura. Perché. O altro. Diciamo. Da registrare. Al momento. Preferisco. Buttarvela lì. Deadly Flares. È. Promettente. Ma. Da rivedere. Beh. L'impatto. Con lo zombie. Non è male. Calcolando. Che potremmo. Compenetrarci. O crashare. Quindi. Assolutamente. Buono. Voglio andare a vedere. Cosa c'è di là. Prima di chiudere. Che ho tremenda. Paura. Io. Niente. Completti. Tutorial. Cacchio. E' quello a fare lì. Ah. Ok. Scusate. Dobbiamo completare il tutorial. Prima di. Di. Ripartire. Poi. Ovviamente. Adesso. Basta. Ho capito. Sto. Tornando. Sulla retta via. Non sparatemi più. Ovviamente. Adesso. Io. Lascio in mano vostra. La possibilità. Di dirmi. Se continuarlo. Se approfondirlo. Secondo me. Dobbiamo aspettare. Un po'. Prima di pensare. Ad approfondirlo. Però. E' andato anche a pezzi. Che significa proprio. Lo zombie. E' proprio così. Fragile. Insomma. Come. Comunque. Chiodi. Non ce ne sono. Quindi. Vediamo. Lungo la strada. Esploriamo un po'. Vediamo un attimo cosa troviamo. Non c'è la benzina però. Avevo detto che c'era. Ma in realtà. C'è solo. La tanica. Anzi. No. Secondo me c'è. C'è. Ma non la vediamo da qua. Non la vediamo dal quadro. Di là. Si andava. Vediamo. Qua. Cosa c'è da questa. No. No. Anche qua ci sono gli uomini cattivi. Cattivi. Perchè poi si va a costruire la casa. Quindi. Gioco che non ha ancora nessun prezzo su Steam. Uscirà. E' un'anteprima. Non so. A che livello sia. Questa versione. So solo che non posso salvare nulla. Adesso. Magari proviamo a fare un. Crafting o qualcosa. Vediamo. Brutta questa. Brutta che mi schianto addosso sto a fare qua però. Molto brutto. Comunque. Si no. C'è la benzina. Fiorella. Praticamente. Significa metti la benzina. Non è il serbatoio questo. Allora. Vediamo un attimo. Con i. Vediamo se abbiamo. Tools da craftare. No. Medicina. Materiali. Possiamo fare solo la corda con le fibre. Strutture. Abbiamo il campfire. Devo imparare questa ricetta per essere in grado di craftare. Vabbè. Cosa ci vuole. Deadly Flares. Era questo. Fatemi sapere sotto nei commenti che cosa ne pensate. Noi ci sentiamo al prossimo video in play. Alla prossima ragazzi. Ciao ciao.